L'analisi fatta col commissario Bondi sulla spesa sanitaria in Basilicata mostra come da noi la politica di contenimento dei costi si è già partita da tempo. Il commento dell'assessore regionale alla sanità Attilo Martorano a margine di un incontro sul tema della spending review che si è tenuto nei giorni scorsi a Palazzo Chigi. Bisogna proseguire ad eliminare le inefficienze, ha detto l'assessore Martorano perché le minori risorse finanziarie non lasceranno spazio alle distrazioni. Espresso giudizio positivo nel corso dei lavori sulle iniziative della regione in merito ad una centrale unica di committenza per gli acquisti sanitari e dal servizio delle autoassicurazioni delle strutture sanitarie. Adotteremo come previsto dal decreto spending review ha proseguito l'assessore tutte le misure come la riduzione del valore dei contratti su tutte le prestazioni non sanitarie, la riduzione dell'1% delle prestazioni da privato e i tetti di spesa sulla farmaceutica territoriale ed ospedaliera. Attendiamo con fiducia che il governo non sottragga ingenti risorse finanziarie alle regioni che le hanno utilizzate in maniera efficiente. Il presidente della regione Vito De Filippo è stato audito in una riunione congiunta delle commissioni consigliari permanenti in merito alla manovra di assestamento di bilancio 2012 della regione Basilicata in cui ha spiegato le linee politiche assunte per la manovra finanziaria 2012. L'assestamento, ha detto il presidente, conferma le scelte già fatte con il bilancio di previsione in un quadro finanziario che si è ulteriormente aggravato nel primo semestre del 2012. L'applicazione dello spending review rischia di mettere in grandi difficoltà il sistema delle regioni, anche di quelle più virtuose. Tuttavia De Filippo ha spiegato che l'assestamento di bilancio riesce a mettere in garanzia le azioni e le misure previste nel bilancio 2012-2014. La regione, infatti, con risorse proprie pari a 20 milioni di euro, potrà garantire i servizi sociali e integrare i fondi destinati alla cittadinanza solidale, alle azioni per il sostegno al reddito e ai contributi per nefropatici e talassemici. Si è proceduto, infine, alla aggiornamento dei residui attivi e passivi, questi ultimi sottostimati a causa delle stringenti norme sul patto di stabilità. È possibile per le donne conciliare tempi di vita e di lavoro, ma perché ciò possa avvenire servono strutture adatte. È questo il risultato che è emerso dalle iniziative attuate dalla regione basilicata nell'ambito dell'intesa conciliazione, sottoscritta con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, i cui esiti sono stati illustrati nel corso di un convegno tenutosi a potenza nella sala in guscio della regione. L'iniziativa si è svolta in basilicata tra lo scorso autunno e la fine di giugno. È stata in particolare articolata su due progetti. Il primo è stato teso ad individuare le difficoltà che le donne hanno nel rientrare al lavoro dopo la maternità. Il secondo alla sperimentazione degli asili domiciliari. Quello che è stato in qualche modo evidenziato è che la donna nel mondo del lavoro ha un valore davvero aggiunto, non come soltanto lavoratrice, ma anche come elemento di sviluppo. Presentate a potenza le novità 2012 del Parco della Grancia. Dopo 13 anni di gestione e creazione dello spettacolo La Storia dei Briganti, il consorzio Pippal cede la sua attività al comune di Brindisi di Montagna. Il cinespettacolo è stato innovato e il parco sarà fruibile dalla mattina alle 10. Inoltre sarà allargato fino al borgo di Brindisi con animazioni e mercatini di prodotti tipici e artigianato artistico. La presentazione dell'evento per il 2012 si è svolta a potenza alla presenza tra gli altri del governatore Vito De Filippo, per il quale, grazie al parco e al suo cinespettacolo, si è sviluppato un vero indotto economico, creando benefici indiretti anche per strutture ricettive. Dello stesso avviso è il direttore generale dell'Agenzia regionale per la promozione turistica di Basilicata, Giampiero Perli. La Polinancia ha dato la possibilità alla regione di parlare di Basilicata, di parlare di luoghi poco conosciuti, di particolare su gestione, come tutti quelli che sono nella zona dell'Alto Basento. Inoltre anche le presenze nelle nostre strutture ricettive sono in gran parte determinate, soprattutto in agosto, da Grancia. Con 11 voti favorevoli, un contrario e 8 astensioni, la prima commissione consigliare ha espresso parere favorevole sull'assestamento al bilancio di previsione 2012. Il Presidente Santo Chirico ha spiegato che il suo voto favorevole sull'articolo 19 con il quale chiedeva di prorogare al 31 dicembre 2012 il commissariamento dell'Alsia era da considerarsi tecnicamente favorevole per il prosieguo dell'iter del DDL della Giunta sull'assestamento di bilancio, fermo restando la necessità di portare la questione dell'Alsia in aula alla presenza del Governo regionale per comprendere i tempi della riforma. Questione che ha visto la posizione contraria del consigliere Vita del PSI. Il voto di assenzione dei consiglieri Scaglione, Falotico, Romaniello e Mazzeo è stato motivato con l'esigenza di ottenere dal Governo regionale un indirizzo e decisioni nette per affrontare al più presto e in maniera strutturale l'intera materia della governance in agricoltura e dell'Alsia in particolare. Le stesse motivazioni hanno indotto il consigliere Navazio a votare contro l'intero provvedimento. Infine, il consigliere Mazzeo è stato eletto vicepresidente dell'organismo consigliare con 16 voti favorevoli e tre schede bianche. È stata respinta la proposta di legge di iniziativa popolare che puntava alla riduzione del 50% dei compensi dei consiglieri regionali all'eliminazione del vitalizio, dell'indenità di fine mandato e dei rimborsi forfettari. Pur esprimendo rispetto e apprezzamento per il senso civico mostrato dai promotori dell'iniziativa e dai cittadini che hanno sottoscritto il documento, i rappresentanti dei gruppi consigliari si sono espressi contro la proposta, rilevando come il consiglio avesse affrontato prima di altre istituzioni il problema dei costi della politica, riducendo le indennità, abolendo i vitalizi e diminuendo le spese di funzionamento dell'ente. Nel corso del dibattito il consigliere Romaniello della SEL aveva sostenuto la necessità che il documento fosse esaminato dalla commissione competente che tra l'altro sta discutendo dello statuto regionale. In seguito il presidente del consiglio regionale Folino ha comunque ribadito che l'assemblea affronterà nuovamente l'argomento dopo l'approvazione dello statuto, anche in maniera coordinata con le altre assemblee legislative regionali e ha annunciato qualche ulteriore norma di contenimento dei costi della politica in sede di assestamento di bilancio. Fase decisiva per la manovra di assestamento di bilancio di previsione in discussione ieri in una riunione congiunta delle commissioni consigliari permanenti, che esamineranno il relativo disegno di legge per procedere poi al voto finale, prima della definitiva approvazione in consiglio entro fine luglio. Una manovra di assestamento da oltre 132 milioni di euro, con un incremento di circa il 13% delle risorse totali generali disponibili nell'esercizio 2012 e con una riduzione di spese di investimento pari a 2,5 milioni di euro. Si è scelto di coniugare le regole contabili regionali con la partecipazione della regione alla sperimentazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, coinvolgendo l'ente parco delle chiese rupestri, l'ente parco regionale Gallipoli Cognato e il CROB. Dopo la relazione del governatore De Filippo, diversi gli interventi dei consiglieri, tra cui Mollica, Scaglione, Napoli, Romagnello, Mazzeo e Navazio. Spending Review, comunicazione istituzionale, sanità, governance agricoltura, ruolo di altis petrolio, consulenze esterne, i principali temi affrontati. Nella prossima seduta di consiglio regionale del 17 luglio presenterò un ordine del giorno con il quale si impegna la giunta regionale a mettere in campo tutte le azioni utili ad evitare ogni atto di ulteriore depauperamento dei servizi offerti alla gente lucana, in particolare quello della paventata chiusura di vari uffici postali. Ad affermarlo è il consigliere regionale dell'MPA Francesco Mollica, ricordando che secondo le indicazioni fornite da poste italiane ad Agicom, in Basilicata saranno soppressi 17 uffici, mentre 21 lavoreranno a giorni alterni. Singolare, secondo il vicepresidente del consiglio regionale Nicola Benedetto, è che poste italiane intende tagliare uffici nelle aree più disagiate del paese, mentre firma un accordo con il CNR per velocizzare i processi di ricerca e innovazione. La vertenza poste, aggiunge Benedetto, deve spostarsi sui tavoli istituzionali del governo e dell'Agicom, che ha ereditato i compiti della soppressa agenzia nazionale regolamentazione del settore postale. Grazie a tutti.